sto registrando si pare proprio di sì allora ciao a tutti intanto spero che tutti stiate bene visto il periodo insomma non semplice insomma che stiamo vivendo un po tutti no questo breve video insomma è giusto per proprio collegato a questa cosa questo lockdown di tutta italia molti mi hanno speso mi hanno contattato privatamente non privatamente insomma chiedendomi qualche notizia sul blog il blog è fermo il blog ha chiuso il blog no il blog non è chiuso il blog è fermo sì perché perché brutalmente non ho voglia di scrivere di rugby in questo questo momento non invidio un po chi continua a farlo oddio magari lo fanno anche perché è il loro lavoro io fortunatamente questo è un hobby quindi non è il lavoro che mi fa pagare le bollette e quindi non sono tenuto a scrivere tutti tutti i giorni e cosa dire non ho molta voglia cioè l'atmosfera è quella che è il rugby è fermo quindi non ci sarebbe molto diverso da dire di quello che già si è detto oddio scusate una battuta involontaria visto che questa cosa si potrebbe applicare gli ultimi dieci anni abbondanti del nostro rugby adesso al di là delle battute momento in cui non ho molta voglia di scrivere ho pochi pochi spunti pochi stimoli ho appena fatto la peperonata leggo guardo serie tv faccio altro poi non è mica detto tra un'ora mi si accende la lampadina e mi metto a scrivere di rugby magari tra un giorno magari tra tre cinque o sette boh chi lo sa quando mi gira lo farò ve lo prometto comunque sto bene comunque il blog non è chiuso e spero che un po riprenda tutto l'andazzo generale il tran tran quotidiano quello vero per tutti e chiaramente a cascata anche sulla nostra amata disciplina prometto che mi farò sentire prima o poi ve lo giuro ciao a tutti